A tutti ragazzi bentornati su Jolly Show, iniziamo subito l'anno con il botto, con questo primo video di The Finals Vi invito anche a cercarmi sull'altra piattaforma dove lo porterò abbastanza spesso E comunque vi lascio a questo primo tournament che è stato semplicemente devastante Quindi spero vi piaccia, in caso lasciate già un bel like di supporto E nulla, buona visione boys e buon 2024 Salve strategiste, guarda, sì però appena ho startato il cosa, comunque buonasera Unlucky per il tempismo, il tempo che si è entrato è partito il tournament Come vedi gravi, ci sono sti round qua Due tenconi, sì vai col medico Eh no, il problema è che non... ah vado in medico Se vuoi sì, almeno sono tutte e tre classi Vabbè ascia a vedere Che ti sei messo Gabri, le scarrasi Eh vede, sì, ok Oh, un notellone abbiamo Siamo Gidraltar Via, andiamo Vedi adesso abbiamo due volte quindi andiamo in quello più vicino, sono a 99 metri Poi Gabri con il medium hai delle granate Ehm no, c'ho le mine Oh gente Aspetta, io vado a sbloccare il volto Sono nato, ok Ma è andato, vai vai Voglio le mani riconosce Eh ricaricare, deve ricaricare Eh lo so, aspetta Ok assist Occhio Gabri che c'è un aranato Sono morto, no c'è... No Gabri Dai che questi sono da una serie anima... Nooo, perché? Vabbè, vai via, scappa, scappa, fuggi Eh, si è proprio da scappare a fuggire qua Provo a venire a arrestare almeno uno di voi Vai lascili andare, poi si tendi il punto a noi Eh sì, perché tanto per andare a morire io in un fight da solo Eh, prova a arrestare ai Gabri Ah, le nettonia sono contati così Eh sì, te l'ho detto Infatti se puoi li animi a arrestare Se non sei troppo lontano Perché insomma al punto dopo Sono arrivato, è 40 metri No, 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 no Va bene, va bene Vai col defibrillatore Oh Ma ricordati di curarmi finito Ok perfetto Andiamo al punto adesso Cazzo non ho curato Non è capissimo Muoio, muoio, muoio Nooo, con quanto l'ho lasciato in vita il tank Ma il nostro quando arriva? No, il nostro Gabri sta giocando proprio un'altra cosa Strategist, se ci sei Cioè, stai pronto Perché qua come vedi il torneo O quello che è Poi il volto ce l'abbiamo qua Quindi Vediamo di non cappellare di nuovo Piazza un po' di mine Gabri Soprattutto Poi corriamo subito su Cira Ma dobbiamo per forza tenerci stovolta Guardate, Gabri Sappilo Non so se ci mette un minuto giusto Però Orbita laser Perché se riusciamo ancora con sto Cash out Con 15k dovremmo riuscire ad arrivare al secondo Vai andato Sì, però guarda che raggio orbitale Proprio dove sto io No, vaffanculo Dai, è vero Che cazzo C'è lo sto stronzo proprio lì Occhio, da me c'è uno Mi sta arrivando Arriva e sulle verso le barricate di su Lo sta fightando, lo sta fightando No, no, no Gioco, dai, veloce Bene Provo a arrestarlo Madonna Cosa ho salvato Dai, 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 dai Buono Buono, secondi Porca Troia Oh, però Gabri Guarda Essere passati già il primo round Non è così scontato Anche perché lo stanno su luogo parecchio E calcola Gabri così Così Gabri Sono le ranked Allora dove sono i punti Ho che abbiamo il punto B Che è qua vicinissimo Quindi corro Vai, vai, vai No, sono Vai, vai, vai Restami, restami Gabri mi ha chiuso Non me ne ho accorto Vai, andate, andate, andate Sbattete il cazzo Eh, più o meno Perché ti ricordo Che in modalità torneo Ah, mi sta rianimando lui Mi sta rianimando lui Da sotto c'è uno E' bastato E non riesco a raggiungerlo Sfattolo Provo a rianimarlo No, no, no Ok, l'ho fatto Eh, però c'è un altro sotto Madonna Che sto facendo questo momento di round C'è un altro sotto Oh, giù, il piancone è partito Eh, provo ad andare ad aiutarlo Mi ha salvato un po' in corner Ma che fanno questo? Non attaccano più? Dopo sono subiti sto full team Da parte dell'Uzio Gioe Eh, hanno preso il cazzo Eh, sì Sto full team non gli è piaciuto proprio Bene Adesso dobbiamo solo capire lo dell'altro volta Vol 3 E qui da noi, 56 metri Su di me c'è un nemico Su di me c'è un nemico Non riesco a raggiungerti No, no, no L'ho sciolto Che fa il nostro? Che fa il nostro? È il nostro fermo No, non di me è crashato Vabbè, Gabriele spona No, è crashato Madonna, quante cancerogene ha la pistola stun Vai andato Aspetta che qua da me c'è uno No, no È rimasto one hit Gabri Gabri A sinistra A sinistra A sinistra No, Gabri Non mi restare Mori, mori, mori Ok, ora resta Oddio Era lui Meno male Oh, bravo Mamma mia che infarto Ok, buono Ci passa Vai, bene Via, via, via Dove andiamo? Andrà ancora un volto Eh, di nuovo per colpa nostra Si va in overtime Mi sa Oddio, paradossalmente lo sta prendendo l'arancione, è il volto Occhio In teoria noi dovremmo essere appostissimo Anzi, non in interior Ma abbiamo fatto Bene Si qualificano come i primi Come primi Attenzione Bene No, l'importante è che quelli rossi siano andati via So, del misplash Oh, comunque guarda quanto siamo passati Finalona Il gran finale, Gabri Attenzione Mamma mia Mamma mia Attenzione Sperare che il nostro tank Non ricrascia Robbe strane Perché Non sa me la merda Mi sono Quando l'ho visto I crash Mi sono Gatti in mano Ho detto Qua è finita Basta Infatti, Gabri Adesso abbiamo solo volta Oddio, sì Oddio, ma No No No, no, no Le torrette no Gabri Non le dobbiamo rompere Quelli che ti servono Io stavo già per morire Oh, fa uno No, sono morto Dietro, dietro Oddio Sto scappando tantissimo Stando verso il volto, Gabri E si porta a casa la prima kill della finale Riflesho 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 Vai, è morto Vai, vai Andate via Mamma mia Mi sono portato un altro nella tomba Se Gabri corri Ciao, ciao La deposita e scappa Madonna Ok, vai via Perché con la mitraglietta Ti può aiutare tantissimo Comunque abbiamo rallentato Un botto No, no Gli ha messi il coso Gli ha messo la Gugan Ha bloccato tutto Eh, vabbè Sono il coglione Porca troia Ce ne sono due Ce ne sono tutti Sono tutti lì Sono tutti lì Eh, lo sono infatti No, vai via da lì Eh, no, Gabri Non poteva Non poteva Almeno uno L'ho tirato via Vai, tank Ti prego Oddio L'ha preso Sì Ottimo Ma si è fatto tutti Quindi Perché uno l'ho killato Se lo non hanno arrestato E' morto tutti Sì, se li hai fatti tutti Buono Buono Vieni a arrestare Vieni a arrestare Ciccio Ok, c'è tempo Vabbè Allora inizio a correre Do il cazzo è il volto Vai, vai, vai Te vai Eh, guarda dov'è il volto Sì Ciavone Tra un anno arriviamo Sì, sono già tornati Allora dopo si corre sul punto B Eccoli che arrivano Mamma mia Cosa si sentì Oh, dietro, dietro Vai, vai Vi prego Vai, voi lo fate Vai, tencone Gabri, te restami Lascia il tencone Gabri, restami Che è caduto quello Tu restami Che vado su B Soprattutto gli altri Prima che rispondono Un altro posto No Oddio, scusa No, no, no Non sto aspettando Non sto aspettando No, no, no È la mitrailletrice No, sono morto C'è gente No, le mancai tutti In lucezione Vengo a arrestare io Se ce la fai ricca Mi sta rischiando Un botto Ma Qua da me Buona assist Bravo Gabri Ma il nostro Non abbiamo spaccato Merda Erro No, no, no Gabri Non entrare nel coso Che sennò Oh E non voglio entrare nel coso Cosa ho negato Gabri Non hai visto No, ho visto Puoi capire cosa ho negato Quello l'ho proprio scelto No, questo qui ha bloccato la torretta In tutte le parti Va bene, va bene Tanto abbiamo vinto Gabri Guarda Sono morti tutti Mamma mia Andiamo Primo turnamento vinto Mamma mia Signori Signori Bravi tutti Gabri E te 10k di danno hai fatto Hai 11k Supporto 8000 E ho fatto 17k Perfettamente bilanciato Perfettamente bilanciato